Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vasto campo di alta pressione tenderà a schiacciarsi sempre di più sul Mediterraneo a causa dell'arrivo di correnti fredde dal nord Europa. Difatti a partire dal nord Italia le condizioni meteo tenderanno a mutare rapidamente durante la sera con l'arrivo delle prime nubi compatte e delle precipitazioni. Al sud invece assisteremo ancora a condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 17 febbraio. Al mattino cieli sereni con assenza di nubi su tutti i settori. Durante il pomeriggio e la sera si assisterà ad un veloce passaggio di nubi alte e stratificate da nord a sud delle regioni senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, risulteranno in aumento nei valori massimi mentre saranno stazionati invece nei valori minimi e in media con il periodo. I venti risulteranno per lo più variabili con deboli rinforzi nord-occidentali nelle zone interne lucane e per quanto riguarda i mari, i calmi o poco mossi sia lo Ionio che l'Adriatico. Oggi per la consueta rubrica La Foto del Giorno ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli che immortala un incantevole tramonto nascosto tra i canneti dei laghi Alimini nei pressi di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.